Allora, fratelli, inizio con una precisazione perché dopo la scorsa puntata mi ha mandato una mail, niente di meno che il sottosegretario Fazzolari, perché io la settimana scorsa ho mostrato un titolo dell'Espresso, me lo fate leggere per favore. Senatore di Fratelli d'Italia è il fedelissimo della leader, twittò di Mattarella un rottame oltre il ridicolo aspirante demonio e del battaglione Azov, onore a loro. Allora, riguardo al titolo del battaglione Azov, il tweet originale era questo. Non importa come la pensi su questa guerra, l'eroismo d'esta ammirazione è sempre, perfino quello del nemico e la difesa della città ucraina di Mariupol, circondata e assediata da 59 giorni, entrerà nella storia per il coraggio dei suoi difensori, onore a loro. Quindi il tweet rendeva onore a tutto l'esercito che difendeva Mariupol e non solo al battaglione Azov, che pure era parte di quell'esercito. Fine, precisazione, perché invece sul resto del titolo non ha detto niente. E allora lo vedete che fa ridere? No. E no, non fa ridere. Faceva ridere più piantedosi di lui, giusto? Che comunque ha fatto un miracolo. Dite quello che volete su piantedosi, ma ha messo insieme le opposizioni, ragazzi. Sulla richiesta di dimissioni di piantedosi c'è stata un'ovazione che il Giova Beach Party al confronto è un rosario. Sabato 4 a Firenze la mobilitazione antifascista va a ditare piantedosi di dimissioni. Per la sinistra, per la rinascita della sinistra, ha fatto più piantedosi in due mesi che D'Alema in trent'anni. I ministri che parlano a ruota libera cominciano ad essere tanti. Certo, ogni ministro ha un portavoce che dovrebbe metterci una pezza, ma sfiga vuole. Cominciano a vergognarsi anche loro. Dammi a vedere. Portavoce in fuga, Valditare e San Giuliano, due dimissioni in un giorno. E nelle scorse settimane se ne erano andati quelli dei ministri Urso e Casellati. Ok? Ormai se lo levano anche dal curriculum. Lei ha lavorato per il ministro Valditara? Elettrauto Valditara. Era l'Elettrauto. Scusi, eravamo sulla Nomentana, io me lo ricordo. C'è un fuggi-fuggi generale. Per questo governo ormai l'emergenza è la creazione di corridoi umanitari, ma non per far entrare i migranti, ma per far uscire i portavoce. Ora, io mi metto nei panni del portavoce di questo qui. Migranti, Lollo Brigida, lavoriamo per farne entrare quasi 500.000 legali. Lui è il ministro all'agricoltura, nonché cognato della Meloni. Lollo Brigida non aveva nemmeno finito di dirlo, che è stato subito smentito da Mulet. Guardate da Floris l'altra sera come lo stronca immediatamente. Giorgio Mulet, di Forza Italia, vicepresidente della Camera. Fammelo vedere. Noi solo quest'anno lavoreremo per far entrare legalmente quasi 500.000 immigrati legali. E allora? E allora ha sbagliato. Ha sbagliato un numero? Ha sbagliato. Ha sbagliato un numero? Sei confuso? Capita. Quindi faccenda chiusa? No. No. Cazzo. Lollo Brigida insiste e il giorno dopo ha rilanciato pure sulla Bossi Fini. Il governo della destra vuole accogliere mezzo milione di lavoratori immigrati in due anni. E abolire la Bossi Fini e abolire la Bossi Fini. La conferma dal ministro Lollo Brigida. Ah, ok, ok. Ora parla a nome del governo. Quindi si era sbagliato Mulet. Ora la faccenda è davvero chiusa? Ma figurati. Il sole 24 ore. Gaspari sul decreto flussi 500.000 è improponibile forse in 20 anni. Ma io non capisco perché al governo prima di parlare non contino? Non so, almeno fino a 500.000. Cioè, ma tanto per dire una cifra sparata nel nulla. Come l'altra. Comunque, 500.000 migranti legali da fare entrare quest'anno sono cinque volte quelli illegali che sono entrati l'anno scorso. Io me lo vedo in Africa le reazioni che ci sono. Oddio, ma noi non ce l'abbiamo tutta sta gente da mandarvi. Cioè... Ma non è... Cioè, è paradossale, no? Cioè, sono anni che Meloni e Salvini dicono che bisogna chiudere i porti e fare il blocco navale e poi, bello bello, arriva Lollobrigida, pure parente, e dice il contrario. Minchia, ma questo è altro tradimento. Ora io mi aspetto che la Meloni chieda le sue dimissioni, almeno da cognato. Comunque, Schlein, ti stanno spianando la strada. Belli che grande che è la Schlein. Ha stravinto su Bonaccini, sorprendendo tutti, no? E me per primo, ragazzi, diciamocelo, me per primo. Anche perché, oggettivamente, io fino a un po' di tempo fa, non è che la conoscessi benissimo io la Schlein. La Schlein. Io sono un comico. Del PD conosco la formazione dei titolari, di quelli che scendono in campo. Ma il terzo portiere, cazzo, le riserve in panca, io le conosco un po' meno, no? Cioè... Ma... No, ma... Ma ci sta, io sono il re dei cretini, no? Quello che mi stupisce, invece, è che se sei un filosofo che da trent'anni pontifica sulla sinistra... Ecco, tipo Massimo Cacciari. E non puoi a carta bianca, dalla Berlinguer, martedì scorso, uscirtene così. Vi sareste mai sognati nella vostra vita precedente che uno diventava segretario di un partito due mesi dopo essere stato iscritto? Come due mesi dopo essere stato iscritto? Cacciari, scusami, tu leggerai Hegel? Ma io, da cretino, quale sono? Leggo Google. E guarda cosa ho scoperto. Dunque, Ellie Schlein entra nel PD nel 2012. Nel 2013 è già nella direzione nazionale. Poi fonda Occupy PD per cercare di rinnovare un partito che con Renzi limonava col liberismo. Nel 2014 diventa parlamentare europea del PD. Nel 2015, per protesta contro il Jobs Act di Renzi, che limonava col liberismo, straccia la tessera. Nel 2020, insieme alle Sardine, aiuta Bonaccini a vincere in Emilia, viene eletta in regione e diventa sua vice. Nel 2022 diventa deputata nelle liste del PD. Poi si scrive di nuovo, si candida e vince le primarie. Tutto questo in dieci anni, senza nemmeno tatuarsi le sopracciglia. A me stupisce che Cacciari, un filosofo di sinistra che si occupa da 30 anni della sinistra, e che sono 20 anni che lo vediamo una sera sì, una sera no, dalla Gruber cagare il cazzo alla sinistra. Martedì, martedì, se ne esca così dalla Berlinguer, diventando l'idolo di Briatore, che però è di destra. Vai. Volevo tornare al professor Cacciari. Come se un'azienda, tu assumi una persona e dopo due mesi amministratore delegato. Cioè, è una roba che non sta nel cielo né in terra. Quando io ho visto che questa signora, che non riesco neanche a pronunciare il nome, è diventata presidente, vuol dire che è un partito che non ha nessun tipo di struttura. Continuiamo a fare così? Tra l'altro mi hanno detto invece che Cacciari e Briatore da mercoledì vogliano fondare un nuovo partito. Il Tuiga Pronetèr! E comunque, una cosa è certa, alle prossime elezioni sarà donna contro donna. E' un bel derby, un bel derby. Tra l'altro, fateci caso, quella ricca e borghese è di sinistra, invece quella borgatara, proledaria, è di destra. No, vabbè. No, ma una cazzata non vuol dire niente, vi spiego perché, lo sapete bene, no? Cioè, la mia è un'osservazione veramente da stolto, perché poi in realtà le rivoluzioni le ha fatte sempre la borghesia, no? Marx era di un'aggiata famiglia di origine ebraica, ma anche lo stesso Enrico Berlinguer era di famiglia nobile sarda. Infatti, lo slogan dei comunisti era, avanti popola riscossa, viva l'evoluzione sinistra! E li Schlein sei dei nostri! Scherzo. E' tosta la Schlein, eh? E' tosta. Schlein chiede a Piantedosi di dimettersi parole indegne. Ah, cazzo, che piglio, porca puttana, finalmente. Io non ero abituato più a questo piglio, perché lei, uno come Letta, 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 alle parole di Piantedosi avrebbe tweetato Questa passi, ma alla prossima... Hashtag cattivone. Però, ragazzi, credetemi, con la Schlein è stato non carino, di più. L'altro giorno c'è stato il passaggio di consegne e lui le ha fatto un regalo sentito. Una cosa importante, bella. Un melograno in ceramica. Come simbolo di... Come... Cioè, sì, il melograno è un... Melograno è un simbolo di... Non lo so, vediamolo, perché non mi ricordo che cazzo di simbolo è. Quindi... ...